Correva velocemente sul marciapiede. Oggi era il giorno della sua laurea a scuola. La ragazza era felice di finire finalmente gli studi e di trasferirsi in un'altra città, precisamente in una grande metropoli, per entrare in una facoltà di medicina. Aveva scelto per sé un'università nella capitale, dove era stata solo una volta di passaggio. Elisabetta sognava di diventare una terapista. L'unica cosa che offuscava il suo desiderio di lasciare la sua patria era la separazione dai suoi genitori e dalla sua sorellina Caterina, che all'epoca aveva 14 anni. Un altro dettaglio preoccupava la ragazza, doveva lasciarsi con il ragazzo con cui usciva da un anno. Il giovane si chiamava Cirillo. Aveva cinque anni più di Elisabetta, aveva già prestato servizio militare e al momento lavorava come meccanico in un'officina. Il ragazzo viveva con i genitori in un appartamento con due stanze. Cirillo si prendeva cura teneramente della sua amata, cercando di coccolarla con piccoli regali. La ragazza apprezzava questi regali, sapendo che lui guadagnava poco. Elisabetta arrivò di corsa a scuola. Oggi era orgogliosa del suo aspetto. Il vestito era stato fatto su misura in una sartoria, ma era di un bianco candido. La pettinatura era stata fatta dal parrucchiere, mentre il trucco l'aveva fatto lei stessa. Elisabetta guardò le sue compagne di classe e pensò tra sé che era la più bella di tutte. Ben presto, tra gli ospiti della cerimonia di laurea, notò il suo ragazzo. Aveva in mano un mazzo di rose bianche e la guardava con ammirazione. Elisabetta capì subito che in quel momento lui la stava semplicemente ammirando. Lei gli fece un cenno con la mano e gli mandò un bacio. Non appena la parte ufficiale della cerimonia finì, iniziarono i balli. Cirillo si avvicinò a Elisabetta e la invitò a un lento. Il giovane la abbracciò delicatamente per la vita e le sussurrò dolcemente all'orecchio. Sei bellissima come una vera principessa. No, anzi, non una principessa, ma una sposa. Dici sul serio? Disse Elisabetta in tono civettuolo. Certo, parlo sul serio, te lo giuro. Disse Cirillo e la coppia iniziò a ballare. I giovani si godevano gli ultimi giorni prima della partenza di Elisabetta. Il ragazzo parlava pensieroso alla sua amata. E se lì in città non mi trovassi un sostituto? Dopotutto, è una grande città con molte opportunità per costruire la tua vita, a differenza della nostra provincia, dove non ci sono prospettive. Dici sciocchezze? Per me sei la persona più cara, e non mi serve nessun altro, quindi scaccia questi pensieri e non ci pensare nemmeno, rispose con tenerezza Elisabetta e baciò il suo amato sulla guancia. Per me non sono sciocchezze, mi preoccupo per questo. Non ti preoccupare, andrà tutto bene. Presto Elisabetta partì per la capitale. Si iscrisse alla facoltà di medicina. Con gioia informò i suoi genitori e il suo amato. Elisabetta si immerse negli studi con piacere. Nel tempo libero visitava i luoghi di interesse della grande città e poi ne parlava con entusiasmo alla sua famiglia al telefono. Il primo anno di studio volò via. La ragazza tornò a casa per le vacanze estive. Per prima cosa corse ad abbracciare i genitori, ma nei suoi pensieri stava già abbracciando Cirillo. Perciò, appena ebbe visto sua madre, suo padre e sua sorella, si precipitò subito da lui al lavoro. Ma lui sapeva già che la sua amata sarebbe arrivata a casa quel giorno. La coppia si abbracciò e la ragazza iniziò a raccontare al ragazzo delle sue giornate di studio. Il giovane ascoltava attentamente, interessato non solo a tutto ciò che riguardava lo studio, ma anche al tempo libero di Elisabetta. Dopo l'incontro con il ragazzo, la ragazza parlò con la sorella, notando che Caterina era cresciuta visibilmente nell'ultimo anno e si era trasformata da brutto anatroccolo in un bellissimo cigno. Elisabetta disse addirittura, sai, sei diventata più carina. Probabilmente molti ragazzi ti corrono dietro. Non dire sciocchezze. Tu hai già conquistato il miglior partito della città e lo sai bene, rispose Caterina, a cui piacquero le parole della sorella. Non stavo cercando di lusingarti. Sei davvero cambiata tanto, anche se eri già una ragazza interessante. Disse Elisabetta. Elisabetta e Cirillo, come sempre, passavano bene il tempo insieme. Avevano una relazione meravigliosa, anche se Elisabetta era preoccupata per questo. Pensava che il viaggio in un'altra città li avrebbe allontanati l'uno dall'altra, ma si era sbagliata. Cirillo portava Elisabetta in braccio nel vero senso della parola. Ogni minuto libero cercava di vederla. La ragazza era felice. Quando le vacanze estive finirono, Elisabetta tornò nella capitale. Cominciò un nuovo anno scolastico. Elisabetta si dedicò di nuovo con piacere agli studi. Così passarono altri due anni di formazione. Al quarto anno di università, un giorno andò in biblioteca, dove conobbe un giovane. L'incontro tra Elisabetta e Arsenio fu banale. La ragazza, assorta nei suoi pensieri con un libro in mano, urtò il ragazzo. Lui si fermò di colpo. Dalle sue mani caddero a terra alcuni volumi di libri. L'uomo guardava smarrito la sconosciuta. E lei, a sua volta, si affrettò a raccogliere le edizioni stampate dicendo, davvero, non l'ho fatto apposta, mi scusi tanto. Quando Arsenio si riprese dallo scontro, disse tranquillamente. Non pensavo che ragazze così carine potessero perdersi così nei loro pensieri da correre a una velocità folle senza vedere nessuno intorno. Oh sì, possono e come, rispose Elisabetta con un sorriso. Il mio nome è Arsenio, disse il ragazzo sorridendo ancora e continuò, visto che mi hai già travolto. Forse dovremmo conoscerci. Beh, non lo so, ma facciamolo, altrimenti è davvero imbarazzante. Io sono Elisabetta, disse lei. E poi la coppia lasciò insieme la biblioteca. Passeggiavano per le strade di capitale, raccontandosi l'un l'altro di sé. Insieme i giovani passarono il tempo fino a tardi. Quando Elisabetta vide che era già quasi le dieci, esclamò, oh, adesso mi beccano. L'ostello chiude alle dieci e c'è ancora molta strada da fare. Oh, speriamo di non dover passare la notte per strada. Ti accompagno in taxi, disse Arsenio con un sorriso. Ogni momento che passava, questa ragazza gli piaceva sempre di più. Lui era un nativo della capitale e vedeva che in Elisabetta non c'era quella rigidità che si trova spesso nelle ragazze delle grandi città. Il ragazzo si accorse di trovare simpatia per questa nuova conoscenza in ogni aspetto, dal suo aspetto al suo carattere. Quando Elisabetta era già in ostello, pensò ad Arsenio. Sapeva già che l'uomo era all'ultimo anno di studio e sognava di diventare ambasciatore. La ragazza si trovò a pensare involontariamente che pensava più al nuovo conoscente che al suo ragazzo, e si sentì a disagio per questo pensiero. Il giorno dopo, Elisabetta, come al solito, andò alle lezioni all'università. Ma dopo le lezioni l'aspettava una sorpresa inaspettata. Appena la ragazza uscì dall'edificio, Arsenio le si avvicinò con un mazzo di fiori. Elisabetta si sentì a disagio, accettò i fiori e chiese. E questo come lo interpreto? Volevo solo rivederti. Per questo sono qui. E tu che fai? Ti opponi? Disse Arsenio sorridendo. Ma sai che ho già un ragazzo, quindi non ha senso, rispose la ragazza a bassa voce. Non pretendo certo di essere né il tuo uomo né il tuo fidanzato, disse Arsenio sorridendo. Secondo me, se vieni da me solo così, senza un motivo, allora è meglio non farlo, disse pensierosa Elisabetta. Ah, quindi bisogna provarci con te, rispose ridendo il giovane uomo. Non ho detto questo, intendevo tutt'altro, risse anche la ragazza, rendendosi conto che quello che aveva detto prima era stato uno sciocchezza. Va bene, lasciamo perdere, meglio fare una passeggiata. Guarda che bella giornata, e poi oggi non sono andato all'università apposta per te, disse il giovane. Elisabetta non rifiutò e i due uscirono insieme, continuando a discutere vari argomenti. Entrarono in un caffè, bevero un caffè, e la ragazza tornò in dormitorio quasi all'ora di chiusura. Le coinquiline la presero in giro per aver trovato un fidanzato. Elisabetta cercava di ignorarle, ma pensava ad Arsenio. Era passato un mese da quando il giovane aveva iniziato a corteggiarla. Erano appuntamenti innocenti, la coppia passeggiava per le strade della capitale e parlava di vari argomenti. Elisabetta continuava a convincersi che fosse solo amicizia e nulla di più, quindi rimase molto sorpresa quando Arsenio disse le seguenti parole. Mi sei cara, voglio baciarti. Sei impazzito? Stiamo solo passeggiando, senza nessuna allusione a una relazione. Dopo queste parole, il ragazzo si girò e se ne andò. Arsenio non si fece sentire per due settimane. Alla fine fu la ragazza a non resistere e gli telefonò per prima. Ciao, cosa dovrei pensare di te? Ciao. Niente. Stavamo solo passeggiando e basta. Quindi perché queste accuse? Rispose calmo l'uomo. Voglio vederti, disse Elisabetta, sorpresa da se stessa. Va bene, oggi ti vengo a prendere, rispose il giovane. Arsenio aspettava Elisabetta fuori dall'università dopo le lezioni. La ragazza, vedendolo, corse verso di lui con gioia e lui la strinse in un abbraccio. Elisabetta non si tirò indietro. Anzi, si strinse a lui con tutto il corpo e in quel momento sentì le labbra di lui premere sulle sue. La coppia si baciò per la prima volta. Improvvisamente, la ragazza capì che stava aspettando quel momento da tanto. Non pensava più che a casa l'aspettava un ragazzo al quale aveva giurato fedeltà. Qualche giorno dopo, tra i due giovani avvenne un'intimità fisica. Elisabetta era felice. Sentiva che quella era la vera amore. Considerava la sua relazione con Cirillo un errore e decise che, appena fosse tornata a casa, avrebbe detto tutto al suo ex fidanzato. Elisabetta tornò nella sua città natale per le vacanze estive. Come sempre, raccontò ai suoi genitori degli studi all'università. La sera, la ragazza si recò all'appuntamento con Cirillo, e appena lo vide, voleva dirgli che voleva rompere con lui. Ma vide lo sguardo entusiasta del ragazzo, la sua gioia sincera, e capì che in quel momento non poteva dirgli niente. Durante tutte le vacanze estive, Elisabetta continuava a promettersi che avrebbe detto tutto a Cirillo, ma non trovò mai il coraggio di farlo. Già prima della partenza, la ragazza decise di parlare con la sorella. Disse, Caterina, sono confusa. Ho una persona amata nella capitale, ci frequentiamo da più di sei mesi. Volevo dirlo a Cirillo, ma non ci riesco. Sono venuta qui e appena l'ho visto, ho capito che anche lui mi è caro, e ora non so cosa fare. Sei impazzita. Non è possibile amare due persone, sei completamente stupida. Cirillo ti ama così tanto, e tu vuoi cambiarlo con un damerino di città, esclamò Caterina con indignazione. Non fare rumore, sorella. Ti ho detto che sono confusa nei miei sentimenti. Ecco, Cirillo mi è caro quanto Arseni, disse Elisabetta con tristezza nella voce. Sai, non ti capisco e ti giudico. A me il tuo Cirillo piace molto, ma lui adora solo te. Comunque, non voglio sapere niente del tuo nuovo corteggiatore, disse Caterina con irritazione, girandosi dall'altra parte. Presto Elisabetta partì per la capitale. Lì continuò a frequentarsi con Arseni. A Cirillo non disse nulla. Quando mancavano sei mesi alla fine degli studi. Elisabetta scoprì di essere incinta. La ragazza ne fu felice, poiché questo significava che ora poteva fare una scelta più consapevole tra i due uomini. Elisabetta sapeva che il futuro bambino era di Arseni. Questo coincideva con i tempi. Durante uno dei loro incontri, la ragazza gli sussurrò dolcemente all'orecchio. Voglio congratularmi con te. Presto avremo un bambino. Arseni si irrigidì e la guardò attentamente, poi disse con un tono leggermente contrariato. In realtà, avere un figlio non rientrava nei miei piani per ora. Ma visto che è successo, dobbiamo decidere qualcosa. Non capisco, non sei contento. Cosa dobbiamo decidere? Io voglio avere questo bambino, disse Elisabetta. Non posso vietarti di non avere il bambino. Non hai più l'età per certe cose, rispose Arseni. Non mi aspettavo che avresti preso questa notizia così. Ma dimmi, sei almeno un po' contento? Chiese lei. Beh, sì, contento, rispose piano il ragazzo. E cosa vorresti? Un maschio o una femmina? Chiese lei più vivacemente. Sono un maschio, rispose lui. E se sarà una femmina, mi lascerai? Domandò lei. Non dire sciocchezze. È solo che mi serve un maschio. E ho le mie ragioni, rispose l'uomo con aria confusa. La giovane donna finì l'università con il pancione. Aveva già concordato con Arseni che sarebbe andata a trovare i suoi genitori in estate. E poi sarebbe tornata a lui per partorire nella capitale. Prima di partire, la ragazza decise di tornare a parlare del sesso del bambino. Così chiese al suo compagno. Ma perché è così importante che nasca un maschio per primo? Come posso spiegartelo? Vedi, nostro padre era piuttosto particolare. In breve, ci ha detto che avrebbe diviso la sua eredità in modo interessante. A chi di noi due gli avesse dato per primo un erede, avrebbe lasciato il suo business. E si tratta di un'attività molto redditizia. Mio padre ha due ristoranti, e uno è situato proprio nel centro della capitale. Capisci? Elisabetta fece una smorfia. Non le piacque la risposta del suo amato. Sapeva già che portava in grembo una bambina. La giovane donna decise di non dirglielo. Pensava che, una volta che avrebbe partorito, Arseni, vedendo la bambina, avrebbe cambiato idea. E anche il padre. Elisabetta tornò a casa, dove i genitori, vedendo la figlia in stato interessante, rimasero sorpresi. La ragazza cercò di rassicurarli dicendo che, non appena fosse nato il bambino, si sarebbe subito sposata con il padre del bambino. Poi la giovane donna incontrò Cirillo, che la guardava con aria cupa. Elisabetta stava per dire qualcosa, ma il ragazzo la interruppe. Quindi, tua sorella mi ha detto la verità, che nella capitale frequenti un altro. All'inizio non ci credevo, perché vedevo che Caterina mi guardava con occhi innamorati. Pensavo che volesse solo infangarti. Ma si è rivelata avere ragione. No, no, non dirmi niente. Non si può costringere qualcuno ad amare. Questo è quello che dice la gente. È proprio il mio caso. Ti auguro solo felicità. Perdonami, Cirillo, sono colpevole davanti a te. Iniziò a dire la ragazza, ma il ragazzo la interruppe di nuovo. Non discutiamo più. E di al tuo amato che si prenda cura di te. Con queste parole il ragazzo si voltò e se ne andò. Elisabetta tornò a casa e si scagliò contro la sorella, dicendo, perché hai raccontato tutto? L'avrei fatto io stessa. Non potevi aspettare. Eh, dovresti ringraziarmi per aver detto tutto a Cirillo. Lui stava impazzendo per la tua mancanza, mentre tu te la spassavi con un altro. È giusto così, rispose Caterina con fervore. Elisabetta ci pensò su e si rese conto che c'era della verità nelle parole della sorella. La giovane donna abbassò la testa, sentendosi a disagio per aver trattato così male il ragazzo. Presto Elisabetta tornò nella capitale, dove fu accolta da Arseni. L'uomo aveva affittato per la sua amata un appartamento con una sola stanza. Subito dopo il suo arrivo e dopo la visita di Elisabetta per l'ecografia, Arseni le chiese chi sarebbe nato. Elisabetta vide quanto questo argomento stesse a cuore al ragazzo, così mentì dicendo che sarebbe nato un maschio. Sentendo questa notizia, Arseni si rallegrò e baciò la giovane donna. Dopo un po', Elisabetta fu ricoverata in ospedale e, al momento giusto, partorì una bambina. La neomamma guardava con gioia il piccolo viso della figlia. La giovane donna decise subito di chiamarla Vasilisa, in onore della nonna. Elisabetta sapeva già che Arseni era stato informato del fatto che aveva avuto una bambina. Glielo aveva detto un'infermiera. La donna sperava che il suo compagno la venisse a trovare e che stesse fuori dalle finestre della sua stanza, come facevano gli altri mariti delle partorienti. Ma il giovane si limitò a farle recapitare un paio di volte della frutta e dei fiori. Elisabetta temeva che Arseni non sarebbe venuto a prenderla dall'ospedale, ma alla fine venne. Il giorno della dimissione? L'uomo prese il fagottino dalle mani dell'infermiera, ringraziò la donna in camici bianco per le congratulazioni e uscì dall'edificio. Elisabetta voleva fare una domanda al compagno, ma vedendo il suo viso corrucciato, non disse nulla. La coppia con il neonato salì in macchina e si diresse verso l'appartamento in affitto. Appena arrivati a casa, l'uomo posò la bambina sul divano e poi disse. Mi hai ingannato. Sapevi già da tempo che avresti avuto una bambina e mi hai mentito dicendo che era un maschio. Insomma, ti lascerò qui dei soldi, basteranno per un mese, poi tornerai a casa. Ho pagato l'affitto dell'appartamento per un mese. Da ora in poi non abbiamo più niente in comune. Dimentica che ci siamo frequentati. Mi stai lasciando solo perché è nata una figlia, ma è assurdo, gridò la giovane donna in lacrime. Mi hai ingannato, disse Arseni con rabbia. Ascolta, ma anche tuo fratello potrebbe avere una figlia, non un figlio. E poi? È possibile che l'attività di tuo padre sia più importante della tua stessa figlia, disse Elisabetta, ora a bassa voce. Sì, è più importante. E non ne discuteremo più. Con queste parole, l'uomo contò una somma consistente di denaro e la gettò distrattamente sul divano. Poi uscì dall'appartamento. E questa sarebbe l'amore, secondo te, gridò Elisabetta dietro di lui, ma lui non la sentì più. Elisabetta era seduta, abbattuta, incapace di credere a quanto fosse successo. La giovane donna non riusciva a capire come l'uomo che amava potesse trattarla così. Non riuscì a trattenersi e scoppiò a piangere. Elisabetta pianse a lungo, chiedendosi come vivere ora, cosa fare. Ma nel suo cuore c'era ancora la speranza che Arseni sarebbe tornato. Fu riportata alla realtà dal suono del piccolo che richiedeva attenzione. «Tesoro, piccolina, hai fame? Ora la mamma ti darà da mangiare e ti cambierà», disse Elisabetta dolcemente, guardando la figlia. Passarono alcuni giorni e Arseni non venne. Elisabetta cercò di parlargli al telefono, ma lui continuava a riagganciare. Passarono tre settimane, ma non ebbe più sue notizie. La donna capì che doveva tornare nella sua terra natale. Lì non aveva nessuno e con un neonato sarebbe stato semplicemente impossibile sopravvivere qui. Elisabetta tornò nella sua città natale. Non aveva avvisato i suoi familiari del suo arrivo, quindi, quando apparve sulla soglia con il bambino, rimasero sorpresi. Elisabetta non volle far aspettare sua madre e suo padre e raccontò loro che il suo amato l'aveva lasciata e che ora il suo destino era quello di una madre single. Caterina, sentendo il racconto della sorella, disse sarcasticamente, «Ecco il damerino di città. Avresti dovuto pensarci prima. Dai, dai, sorellina, continua a sfogarti. Se questo ti farà sentire meglio. Vai avanti», disse piano Elisabetta. Passò una settimana dal ritorno di Elisabetta, quando improvvisamente venne a trovarli Cirillo. Il giovane uomo teneva in mano un mazzo di fiori e una scatola di cioccolatini. Era stata Caterina a informarlo dell'arrivo di Elisabetta e anche del fatto che la sorella era stata abbandonata con il bambino dal suo corteggiatore. Cirillo rimase esitante sulla soglia, poi chiese il permesso di entrare. Elisabetta guardava con sorpresa il suo ex e poi disse, «Cosa ti porta qui da noi? Beh, entra pure, stiamo per prendere il tè. Sono felice di vederti. So già tutto di te. Non c'è bisogno che mi racconti nulla», disse Cirillo con un sorriso. «Hm. Posso anche immaginare da chi hai saputo. Dalla mia chiacchierona di sorella, giusto», disse Elisabetta con un sorriso ironico e continuò. «Vuoi anche tu prenderti gioco di me?» «No, certo che no. Voglio solo sapere come stai», rispose piano Cirillo. «Io e mia figlia stiamo bene. Stiamo iniziando una nuova vita insieme», disse Elisabetta con calma. Parlarono per circa un'ora. Poi Cirillo si preparò per tornare a casa e chiese prima di andare. «Posso venire a trovarti di tanto in tanto?» «Sarai sempre il benvenuto in questa casa», rispose la ragazza con un sorriso. Dopo questa conversazione, Cirillo cominciò a fare visita alla giovane donna quasi ogni giorno. E se non veniva, la chiamava sicuramente per sapere come stava. E dopo solo due settimane, Cirillo fece una proposta di matrimonio alla giovane donna. Elisabetta non credeva alle sue orecchie, che dopo come si era comportata con lui, lui le avrebbe chiesto di sposarlo, così chiese. «Ma io ti ho ingannato allora. Questo è il passato. Ora avremo una nuova vita. Darò alla tua bambina il mio cognome e vivremo come una famiglia felice e unita», rispose Cirillo con un sorriso. «Vuoi dire che adotterai Basilisa?» chiese Elisabetta con stupore. «Sì, prenderai il mio cognome e il mio patronimico». «Non capisci che ti amo ancora come prima?» insistette Cirillo e chiese. «Mi sposerai?» «Non sono ancora pronta per questo», rispose piano la giovane donna. «Stava ancora aspettando Arseni inconsciamente. Stai ancora pensando a quel ragazzo della capitale?» chiese Cirillo con tono cupo. «No, non penso a lui. Ho solo bisogno di un po' di tempo», rispose la ragazza. «Va bene, ti aspetterò», disse piano Cirillo. Dopo questa conversazione, Elisabetta riflette sul fatto che, in fondo al suo cuore, sentiva che Arseni non sarebbe tornato da lei. Ma la giovane donna nutriva ancora la speranza di un ritorno del suo ex amato. Erano passati due mesi da quando Cirillo le aveva fatto la proposta, di cui ormai sapevano i genitori di Elisabetta e sua sorella. Caterina era arrabbiata perché Elisabetta non ricambiava i sentimenti di Cirillo e la rimproverava. «Cosa stai aspettando? Vedi come ti ama. Un ragazzo così è difficile da trovare, e tu continui a fare la difficile. Il tuo ragazzo della capitale non verrà, non ha bisogno di una provinciale come te, quindi smetti di nutrire false speranze. E se Arseni venisse davvero?» chiese piano Elisabetta. «Se avesse voluto venire, sarebbe già stato qui da tempo», rispose con rabbia Caterina. Passò una settimana dopo la conversazione con la sorella, ed Elisabetta accettò la proposta di Cirillo. La coppia si sposò, e presto la giovane donna con Basilisa visse come moglie legittima con Cirillo. Come aveva promesso, l'uomo adottò la bambina. La giovane famiglia iniziò una nuova vita. Elisabetta aiutava la suocera con i lavori domestici. Cirillo lavorava e tornava sempre a casa con gioia, sapendo che lì lo aspettavano la moglie amata e la figlia adorata, che considerava come sua figlia. Passò un anno senza accorgersene. Elisabetta raramente pensava al suo ex amato, e quindi fu colta di sorpresa dalla domanda inaspettata del marito. «Pensi ancora a quel ragazzo? Perché fai questa domanda?» rispose la ragazza con una domanda perplessa. «L'ho chiesto così, senza motivo», disse piano Cirillo. «Tu non chiedi mai senza motivo. Ho pensato che viviamo insieme da tanto tempo e tu non mi hai mai detto che mi ami», disse tristemente l'uomo. «Non ho bisogno di nessun altro oltre a te, e te lo dimostrerò col tempo», disse la ragazza con un sorriso. Cirillo abbracciò la moglie e la baciò sulle labbra, e la donna disse piano. «Io ti amo, e dovremmo andare a prendere Basilisa da tua madre, o distruggeranno tutta la cucina. Senti come sbattono le pentole». Con queste parole si alzarono e corsero in cucina. Quando Basilisa compì un anno e mezzo, Elisabetta capì di essere incinta. La giovane donna diede la notizia al marito prima di andare a letto. Cirillo abbracciò teneramente la moglie e la coprì di baci, e per un po' la coppia si chiese se avrebbero avuto una bambina o un bambino, poi, abbracciati, si addormentarono. Elisabetta ebbe una gravidanza difficile, con frequenti nausee. Cirillo cercava di aiutare la moglie in tutto e di soddisfare ogni suo desiderio. Al momento giusto, Elisabetta partorì un maschietto, che lei e il marito chiamarono Giovanni. Cirillo andò a prendere la moglie dall'ospedale insieme a Basilisa. Aveva in mano un enorme mazzo di fiori. L'uomo abbracciò la moglie con gioia e la ringraziò per il figlio. «Ora sono davvero il padre di famiglia più felice», sorrideva Cirillo a tutta faccia. «Ho una figlia e un figlio», e, soprattutto, «una moglie adorata». Durante il consiglio di famiglia, decisero di investire il capitale maternità in una nuova casa, scambiando il loro appartamento di due stanze con uno di tre. E presto Cirillo, con la moglie, i bambini e i suoi genitori, si trasferirono nella nuova abitazione. Elisabetta e la suocera iniziarono subito a sistemare l'appartamento. E negli ultimi tempi erano diventate molto amiche. Il tempo passava lentamente. La giovane coppia portò la figlia all'asilo. E quando Giovanni compì un anno e mezzo, Elisabetta si sentì di nuovo poco bene. La giovane donna conosceva già questi sintomi. Quindi non si sorprese quando il test comprato in farmacia mostrò due linee. Stavolta non sapeva se fosse una buona notizia o no. Dopotutto, avevano già due figli, quindi la sera parlò con il marito. «Sai, sono di nuovo incinta». «Ma è fantastico! Diventerò papà di molti figli», disse entusiasta Cirillo, prendendo la moglie per le mani. «Vuoi che partorisca?» chiese sorpresa la giovane donna. «Mai mai pensato di interrompere la gravidanza?» rispose l'uomo con una finta durezza. Poi continuò con un tono più dolce. «Certo che partorirai. Queste tue notizie mi riempiono di gioia. Non so come reagiscano gli altri uomini, ma io sono semplicemente al settimo cielo con questa notizia. Ora vieni qui tra le mie braccia». Con queste parole abbracciò la moglie. «Aspetta un momento. Se poi rimarrò di nuovo incinta, dirai ancora una volta che vuoi un altro bambino?» chiese ridendo Elisabetta, cercando di sfuggire dalle braccia del marito. «Dirò proprio così, anche quando arriverà il quinto, ti dirò, vai a partorire punto. E quando dovrai lavorare? Ho finito l'università e non ho lavorato nemmeno un giorno. Beh, allora il tuo destino è stare a casa e crescere i bambini. Ora vieni qui, voglio abbracciarti. Va tutto bene. Io lavoro, tu ti occupi della casa. Grazie a Dio abbiamo abbastanza soldi, quindi non preoccuparti. Cresceremo tutti i nostri figli e li faremo diventare persone per bene». Elisabetta si avvicinò teneramente al marito. Gli era grata per tutto. In quel momento capiva che molte famiglie avrebbero potuto invidiare la loro relazione. All'improvviso Cirillo disse che doveva correre al negozio. Elisabetta guardò il marito con stupore e disse «abbiamo tutto a casa. Perché andare al negozio? Voglio farti una sorpresa per questa bella notizia. Non preoccuparti, tra un'ora sarò a casa e voi intanto apparecchiate la tavola con i bambini. Altrimenti tornerò affamato», disse ridendo l'uomo, e uscì di casa. Elisabetta guardò il marito con un sorriso. Sapeva che il suo amato avrebbe sicuramente fatto un regalo a lei e ai bambini. Cirillo amava molto viziarli con qualcosa di speciale. Poi la donna guardò Vasilisa, che stava pettinando i capelli della sua bambola, e poi rivolse lo sguardo verso il figlio. Il bambino giocava con i cubi. Elisabetta si alzò e andò in cucina a preparare la cena. Passò un'ora, ma Cirillo non tornava. Passò un'altra mezz'ora, ma l'uomo non tornava ancora. Elisabetta sentì un brutto presentimento. Chiamò il marito, ma il suo numero era fuori portata. La giovane donna sentiva un'ansia crescente. Dopo tre ore ricevette una chiamata da un numero sconosciuto che le comunicò che Cirillo era stato investito da una macchina. Tutto il resto Elisabetta non lo ricordò. Si svegliò in ospedale sotto una flebo. Accanto a lei c'era la sorella in lacrime. Con difficoltà, Elisabetta riuscì a dire «Come sta Cirillo?» «Non c'è più», disse Caterina piangendo. «Come, come non c'è più?» chiese la donna, incapace di capire, e di nuovo sprofondò nell'oscurità. Si svegliò al forte odore di ammoniaca. Sopra di lei c'era un medico. L'uomo esaminò attentamente le pupille di Elisabetta. Nella stanza entrò la madre di Cirillo. Lei si avvicinò alla nuora e la abbracciò, dicendo «Fatti forza! Ragazza, ora è molto difficile per tutti noi». Fu in quel momento che Elisabetta capì che il suo amato marito non c'era più. La giovane donna scoppiò in un pianto disperato, e nessuno cercò di calmarla. Tutti nella stanza capivano che la ragazza aveva bisogno di sfogare le sue emozioni. Ma il destino le riservava un'altra triste notizia quel giorno. Il medico informò Elisabetta che aveva perso il bambino a causa di un crollo nervoso. La giovane donna era distrutta dentro. Non capiva perché il destino fosse così crudele con lei. Elisabetta fu dimessa dall'ospedale sotto firma. Presto si svolsero i funerali di Cirillo. Elisabetta a malapena capiva cosa stesse succedendo. Piangeva lacrime amare quando la bara veniva calata nella tomba. In quel momento non voleva vivere. Dopotutto, l'uomo caro al suo cuore non le avrebbe mai più detto buongiorno. Amore al mattino non l'avrebbe mai più abbracciata e non le avrebbe mai più detto ti amo. Elisabetta si sentiva così male che voleva restare lì accanto a lui, nella tomba. La sera, dopo la veglia funebre, Elisabetta sfogliava le foto di famiglia e piangeva silenziosamente. Ora sapeva quale sorpresa suo marito volesse farle quel giorno fatale. Aveva ricevuto quegli oggetti dalla polizia. Erano un mazzo di fiori, una collana di perle in una scatolina, che sognava da tempo, e due orsacchiotti di peluche di colori diversi. Elisabetta capiva che i giocattoli erano per i bambini, mentre i gioielli e i fiori erano per lei, come regalo per la lieta notizia della gravidanza. Dopo il funerale, il tempo scorreva lentamente. Elisabetta si occupava delle faccende domestiche e cresceva i bambini. I bambini la distraevano completamente dai tristi pensieri sul marito. La suocera vedeva che la nuora sentiva la mancanza di suo figlio, ma capiva che Elisabetta avrebbe dovuto, prima o poi, sistemare la sua vita personale. Così decise di parlare con Elisabetta. Ascolta, il tempo passa, e tu ti sei chiusa in te stessa. Guarda, quest'autunno la mia nipotina andrà già in prima elementare. Devi tornare a lavorare, così ti relazioni con le persone. Mamma, ci ho già pensato. Volevo parlar bene io stessa. E poi, un po' di soldi in più non guasterebbero. Brava, ma prima di tornare al lavoro, non ti farebbe male andare al mare con i bambini, rilassarti, divertirti. Ora siamo a luglio. È il momento perfetto per una vacanza, disse la donna anziana. In effetti, si potrebbe andare. Soprattutto perché i bambini non sono mai stati al mare. E io e Cirillo lo sognavamo, sospirò la nuora. Bene, allora siamo d'accordo, mia cara. Ho messo da parte dei soldi. Tieni. E le porse delle banconote. E ora vai a comprare i biglietti? Grazie. Questo viaggio sarà molto utile per tutti noi. Una settimana dopo, Elisabetta era in viaggio in treno. La sua destinazione era il mare. Con un cambio nella capitale. La giovane donna passeggiava per la capitale tenendo i bambini per mano. C'era ancora tempo prima del prossimo treno. Improvvisamente, Basilisa disse, mamma, ho fame. Elisabetta guardò la figlia maggiore. Poi si guardò intorno e notò un ristorante non lontano. Senza pensarci, disse, oh, viviamo una volta sola. Andiamo a concederci un lusso. I bambini, contenti, sorrisero e insieme alla mamma si diressero verso il ristorante. La famiglia si sedette a un tavolo. Portarono loro il menù e fecero l'ordine. Basilisa osservava attentamente l'elegante arredamento, mentre Giovanni guardava i passanti fuori dalla finestra. Poco dopo portarono i piatti ordinati e iniziarono a pranzare. Elisabetta mangiava con gusto il salmone al forno, bevendo succo di melograno. Non pensavo di incontrarti, e tu sei ancora bella come tanti anni fa. Arseni? Elisabetta si girò e vide un uomo ben vestito avvicinarsi a loro, un uomo che un tempo aveva amato molto. In realtà non pensavo nemmeno io di incontrarti. Che incontro inaspettato, disse stupita la donna, alzandosi dal tavolo. Vedeva che l'uomo osservava attentamente sua figlia e, puramente per istinto, temeva che lui dicesse qualcosa di inappropriato davanti alla bambina. Elisabetta si rivolse ai bambini, rimanete qui, io mi allontano per cinque minuti. Appena la donna fece un passo di lato, Arseni chiese a gran voce, questa è mia figlia. Vero? Stai zitto, lo zitti Elisabetta. Poi sussurrò, non è più tua figlia. Hai scambiato tua figlia per l'attività di tuo padre. E questa è Vasilisa, la figlia di Cirillo, non la tua. Suo padre è il mio defunto marito. Ascolta, sono passati tanti anni. Sì, allora sono stato uno stupido. Ti ho cercato per un anno, e poi ancora, ma non riuscivo a trovarti. Non riesco ancora a dimenticarti. Mi sono anche sposato, ma la vita non è andata bene. Perdonami per l'amor di Dio, disse rapidamente l'uomo, afferrando le mani della donna. Smettila con questa commedia. Se avessi voluto trovarmi, mi avresti trovata in un mese. E il mio amore per te è morto quando mi hai lasciata sola in quell'appartamento in affitto. Disse Elisabetta con voce ferma ma tranquilla. Ma è mia figlia, disse piano Arseni. Ripeto, non è tua figlia. Tra noi non c'è più niente. Ora prenderò i bambini e ce ne andremo, disse Elisabetta. Ma l'uomo la fermò dicendo. Tu sei vedova, e io sono divorziato. Cominciamo tutto da capo. Sono un uomo ricco, anche se non ho un figlio. Mio fratello è morto, e ora sono l'unico erede della fortuna di mio padre. Questo ristorante è mio. Mi dispiace che tu abbia perso tuo fratello. Congratulazioni per l'eredità. Ma noi due andiamo in direzioni diverse. Mi hai tradito una volta, non ti perdonerò mai più. Ma sai, ti sono persino grata per questo. Ho imparato cosa sono l'amore e i veri sentimenti. Che non conoscono ostacoli. Ti auguro felicità, disse Elisabetta, facendo un cenno al cameriere. Aspetta, vuoi che mi inginocchi, disse Arseni, e in quel momento le lacrime gli rigarono il viso. L'uomo sentiva che stava per scoppiare a piangere come un bambino. In quel momento si avvicinò il cameriere. La donna prese il portafoglio e tirò fuori alcune banconote per pagare. Ma Arseni disse al cameriere che quel tavolo era offerto dalla casa. Il proprietario del ristorante cercò di nuovo di parlare con Elisabetta. Ma lei lo guardò con disprezzo e, prendendo i bambini, si diresse verso l'uscita. Arseni rimase lì a guardare la donna che si allontanava. Capì che il suo amore per lui non sarebbe mai più tornato. Ebbe mai più tornato. Ebbe mai più tornato. Ebbe mai più tornato. Ebbe mai più tornato.